Mattinata movimentata ad Ancona sotto il palazzo della regione, doppio presidio sindacati da una parte per il mancato confronto sulla legge di bilancio e i terremotati di Ancona. Un'azienda attenta alle esigenze dell'utenza, Adria Bus, annuncia nuove corse e servizi sulla tratta Pesaro-Urbino. Areverdi, Fontane e Campetto Polivalente, presentato il restyling del Barco sul Mare, un progetto da quasi 7 milioni di euro. Ampia pagina sportiva con calcio e volley, in Serie B cresce l'attesa per la trasferta dell'Ascoli a Pisa, sconfitta la SAM nel derby contro la Vigor Senigallia. Buonasera, benvenuti a All News, seconda edizione. Il nostro appuntamento con l'informazione si apre con la cronaca. Un ragazzino di 11 anni vede il padre picchiare la madre e chiama il 112. Dopo il caso della bambina di 7 anni che qualche giorno fa aveva contattato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto per la mamma picchiata dal marito, ieri sera un altro minorenne ha inoltrato una segnalazione simile ad Ancona. In casa, nel quartiere del Piano San Lazzaro, sono arrivati i carabinieri della stazione principale e hanno arrestato l'uomo, un cinquantenne italiano. Ora si trova nel carcere a Inconetano di Montacuto per l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna, di nazionalità straniera, lo aveva già denunciato nei mesi scorsi e per i fatti da lei riferiti doveva essere sentito in questi giorni dal pubblico ministero titolare del fascicolo d'indagine. Nelle prossime ore verrà fissata la convalida d'arresto. Investita mentre attraversava la strada, protagonista della vicenda, una donna di mezza età di origine moldave, successo nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale adriatica Nord a Fano. A falciare la donna una vettura condotta da una 46enne di Pesaro. Sul posto è stato chiesto l'immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasporto in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. La donna non è in pericolo di vita. Andiamo adesso al nostro primo servizio, l'avete sentito dai titoli. Questa mattina davanti al Palazzo della Regione ci sono stati due presidi, sindacati da una parte, terremotati di Ancona dall'altra. Iniziamo proprio dalla situazione che stanno vivendo da più di un anno alcune famiglie di Ancona rimaste senza casa dopo il terremoto del novembre 2022. È passato oltre un anno dalle forti scosse 5.5 e 5.2 che il 9 novembre 2022 causarono danni e sfollati nelle province di Pesaro e Ancona, ma non si è risolta la questione delle risorse per i lavori negli immobili inagibili e per il rientro degli sfollati. Dopo la doccia gelata della bocciatura di un emendamento in finanziaria 2023 presentato dal commissario post-sismac Guido Castelli, i terremotati del comitato 707 di Ancona hanno attuato un presidio davanti a Palazzo Leopardi per sollecitare la Regione a prendere posizione. Noi chiediamo che vengano stanziati dei fondi per la ricostruzione delle nostre case perché in alternativa noi non abbiamo modo di risistemarle, chiediamo che Acquaroli ci incontri perché abbiamo bisogno di parlare con il nostro Presidente della Regione, chiediamo che lo stato di emergenza che ormai scadrà ad aprile 2024 venga prorogato perché la nostra emergenza proseguirà. E chiediamo di non essere dimenticati perché ad oggi è la sensazione che invece proprio abbiamo chiara dentro di noi. Il Presidente Francesco Acquaroli ha ricevuto il comitato. Il 27 dicembre si terrà un incontro tra Presidente, Comitato e Castelli. E sempre questa mattina in contemporanea c'è stato il presidio regionale di CGL Cisle Will, mentre in aula erano in corso i lavori di votazione delle linee di programmazione regionale. Ricomincio da tre lo slogan dell'iniziativa con cui i sindacati hanno inteso protestare a causa del persistente mancato confronto sindacale sulle politiche di bilancio da parte della Giunta regionale. Sulle ragioni della protesta abbiamo sentito i segretari delle tre sigle. Ancora una volta qui in Regione tutte e tre le sigle unite c'è la legge di bilancio e ci sono tanti capitoli che non vi soddisfano? La legge di bilancio di fatto concretizza quella che è la politica regionale. Noi al di là delle cifre vincolate non riusciamo a capire effettivamente quali sono i criteri con cui per esempio è stato composto l'allegato E. cioè noi abbiamo persone che sono veramente in grande difficoltà, adesso entra in vigore anche il reddito di inclusione, sappiamo che comunque diversi resteranno fuori e stanno già andando ai comuni a chiedere risorse e in questo momento noi costruiamo l'allegato E senza tenere conto delle necessità e delle difficoltà dei cittadini marchigiani. Segretario avete voluto fortemente essere qui, ci sono tanti temi che vi preoccupano, non poteva mancare la sanità? Sì, noi abbiamo contestato la legge 19 sul riordino del sistema sanitario regionale proprio perché non individuava le risorse necessarie per realizzare le cose che ci sono scritte. Il DEF che verrà votato proprio in questi giorni conferma l'impostazione della Giunta, quindi un libro dei sogni in cui si scrivono tante cose ma che poi non prevede le conseguenti risorse per poterle realizzare. Un tema all'ordine del giorno? Noi diciamo occorre una visione di sviluppo, transizione ambientale, transizione digitale ma attrazione sociale. occorre avere uno sguardo, una vicinanza alle persone che sono in difficoltà. Quindi pensiamo ai lavoratori precari, ai lavoratori che lavorano in un ambiente insicuro, alle persone che per esempio sono nelle strutture protette. Pensate, nell'ultimo anno hanno avuto un incremento della retta del 10% media. Allora non possiamo pensare di crescere come regione, far pagare lo scotto alle persone che sono più in difficoltà. La cronaca giudiziaria sta andando avanti per il terzo giorno al Tribunale di Ancona alla requisitoria dei PM Paolo Gubinelli e Valentina Bavai nell'ambito del secondo filone processuale per le morti di 5 adolescenti e una mamma a 39enne avvenute nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Ad assistere all'udienza anche i familiari delle sei vittime. Quella notte gli adolescenti e la mamma morirono, travolti dalla calca nel fuggi-fuggi dal locale dove era stato spruzzato uno spray urticante. Nel primo filone processuale sono stati condannati in via definitiva i sei membri della cosiddetta banda dello spray. Oltre 200 le persone che rimasero ferite. Morì dopo un mese dall'incidente stradale. L'amico alla guida è stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni. L'incidente avvenne il 13 ottobre 2021 in via dell'Industria a Porto Recanati quando una Fiat Multipla condotta da un 29enne romeno residente a Recanati finì contro un muretto. Nell'impatto rimase gravemente ferito il passeggero un 39enne pakistano residente a Corridonia che fu trasportato all'ospedale di Torrette in gravissime condizioni e dove morì il 10 novembre successivo. Con il nostro prossimo servizio restiamo ad Ancona perché ci sono stati altri atti di vandalismo in città. Questa volta è stato preso di mira il passetto. Sentiamo Claudio Comirato. Il comune di Ancona promette battaglia ma soprattutto sanzioni a chi viene beccato ad imbrattare muri e monumenti con tanto di spesa carico dei responsabili per il ripristino delle superfici imbrattate. Peccato però che i vandali non si fermano davanti a nulla e allora siamo di nuovo punte a capo con il monumento a Caduti simbolo del capoluogo di regione che è stato nuovamente imbrattato con pennarelli e non solo. Frasi scritte molto probabilmente da adolescenti almeno si presume che sulla pietà distria delle monumenti a Caduti si promettono amore eterno ma c'è anche chi grida al mondo intero tutto il suo dolore per essere stato magari sedotto e abbandonato dalla ragazzina di turno. L'unico dolore in realtà è vedere che il monumento a Caduti ancora una volta è stato violato nel suo significato più profondo gesti che non trovano nessuna giustificazione le cui conseguenze almeno per il momento ricadono sull'intera collettività con il comune di Ancona che per l'ennesima volta dovrà provvedere alla pulizia delle facciate sempre che le telecamere di videosorveglianza come avvenuto in altri posti non siano di supporto per dare un nome ai responsabili di questo gesto. La squadra mobile e l'ufficio prevenzione generale di Fermo hanno individuato gli autori di una sanguinosa aggressione avvenuta nei giorni scorsi in Piazza del Popolo ai danni di un minore straniero ospite di una comunità d'accoglienza del Fermano. Gli agenti in breve tempo sono riusciti ad individuare gli autori di tale aggressione. Si tratta di tre ragazzi di 18 anni, due di origini nordafricane e uno albanese. Il 2024 dovrà essere l'anno della presentazione definitiva di tutti i progetti per il recupero del centro Italia terremotato. E' quanto ha detto stamani il commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, durante la conferenza stampa sulle decisioni assunte ieri dalla cabina di coordinamento. Al momento del mio insediamento alla struttura commissariale, ha spiegato Castelli, si attendevano 50.000 progetti, ne sono stati presentati 29.000, quindi ne mancano all'appello altri 20.000 che contiamo di ricevere entro il 2024. Cambiamo argomento, parliamo adesso di trasporto pubblico locale, di alcune novità di Adria Bus che riguardano la tratta Pesaro-Urbino. Lino Balestra. Un'azienda attenta alle segnalazioni e alle istanze dell'utenza del territorio, pronta a mettere in campo soluzioni operative per rispondere alle richieste e quindi un'azienda dinamica. Usa toni orgogliosi, Laro Ottaviani, presidente di Adria Bus, nel presentare oggi i nuovi orari e le nuove corse che riguardano la tratta Pesaro-Urbino, la seconda tratta più importante per volumi delle marche, che assorbe il 60% della movimentazione dell'azienda. Azienda che per rispondere soprattutto alle sollecitazioni provenienti dal mondo studentesco che utilizzano la stazione di Pesaro come hub principale, vedono negli orari più flessibili e dilatati una risposta alle loro esigenze. Apportiamo delle piccole modifiche ai nostri servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza. Per quanto riguarda il collegamento Urbino-Pesaro, aumenteremo una corsa il mattino che partirà da Urbino alle 6.15 e arriverà a Pesaro attorno alle 7.02. Questo consentirà di prendere anche il treno che conduce a Roma i tanti clienti e il treno che parte alle 7.16 da Pesaro. Un collegamento davvero importante per questo territorio, oltre ovviamente a tanti altri treni. Aumentiamo una corsa anche alla sera perché da Pesaro partiremo non più, come ultima corsa alle 20.30, ma alle 21.30. Così potendo andare incontro alle esigenze di tante persone che da tutte le città d'Italia arrivano nella stazione di Pesaro anche dopo le 21. Un grande sforzo da parte di Adria Bus che speriamo vada incontro alla soddisfazione dei nostri clienti. Altre piccole modifiche le facciamo per la città di Urbino, sempre nell'ottica di soddisfare i nostri clienti e anche l'amministrazione comunale che ci ha chiesto un ulteriore sforzo. Anche nei festivi ci saranno variazioni. Le corse nella fascia pomeridiana avranno cadenza ogni ora anziché di due. Questo ampliamento dell'offerta è indicativo della progressione che l'azienda ha avuto nel tempo. Un dato su tutti la dice lunga, sottolinea il direttore generale Massimo Benedetti. Dal 2003, che avevamo otto coppie di corsa, oggi siamo arrivati a quota 32. Noi lavoriamo molto sul concetto dell'utenza potenziale e naturalmente cercare di trasferire l'automobilista sull'autobus perché questo è il nostro obiettivo con cui ci alziamo ogni mattina. È la cosa più difficile che possa esistere. Ci spostiamo. Presentato questa mattina il restyling del nuovo barco sul mare. Siamo a Civitanova Marche. Il progetto riguarda un'area che si estende per circa 18 mila metri quadrati di superficie. L'opera era già stata inserita nel piano delle opere pubbliche a novembre, finanziata con 4 milioni e mezzo di euro che rappresentano il primo stralcio rispetto ai 6,7 milioni necessari per l'intero progetto. Dici barco sul mare, pensi subito a Civitanova Marche perché è uno degli elementi distintivi della città dove si svolgono tantissime manifestazioni. Oggi si presenta così, ma con il sì della soprintendenza al maxiprogetto di restyling sarà tutta un'altra cosa e un'altra storia. Finalmente, dopo tanta attesa, si mette in moto l'iter burocratico che porterà all'avvio dei lavori previsto comunque non prima dell'estate. Questa mattina il progetto è stato presentato dal sindaco Ciarapica, dagli assessori ai lavori pubblici all'urbanistica Carassai e Belletti insieme al dirigente Marco Orioli, presente anche il consigliere comunale Piero Croia. Il progetto riguarda un'area che si estende per circa 18 mila metri quadrati di superficie, fontane con giochi d'acqua, grandi lastroni a terra per dare uniformità con la pavimentazione centrale che si trova tra le due palazzine Liberti dell'Ido Cluana, ai lati sorgeranno aree verdi con dei camminamenti che verranno illuminati. Nella parte finale verrà allestito un campo polivalente per attività sportive e giochi per bambini. È il luogo dove nella grande maggioranza dell'anno vive la città nel periodo estivo con i grandi eventi, ma anche durante l'anno è un luogo da frequentare per le passeggiate, per attività sportive e quindi ritenevamo fondamentale una riqualificazione che naturalmente conservasse tutte le caratteristiche di quest'area, quindi il verde che verrà mantenuto, che verrà potenziato, ma anche totale quest'area di illuminazione, di videosorveglianza, di aree fitness, di un campo polivalente. Finalmente ci siamo riusciti, non è stato semplice, c'è stata una fase di progettazione abbastanza lunga, anche perché ci sono state tante occasioni di confronto e poi la necessità di reperire le risorse perché parliamo di un'opera da 6 milioni e 700 mila euro. Assessore, tempi, costi per quello che sarà un nuovo barco sul mare? Sì, noi andremo a predisporre un progetto generale e un progetto di primo stralcio dell'importo di 4 milioni e 500 mila euro. L'importo complessivo sicuramente supererà i 6 milioni di euro. Come tempistica noi ci eravamo dati, quindi se riusciamo entro fine anno ad approvare il progetto stralcio per poi iniziare tutto l'iter dell'appalto dei lavori, sta a significare che non prima dell'estate potremo iniziare le opere. Purtroppo i tempi per la pubblica amministrazione sono questi. Incontro conclusivo a San Benedetto del Tronto dei laboratori a tema sul cibo del progetto Alimentazione Salute voluto dall'amministrazione comunale per i centri diurni della città. Dettagli nel servizio curato da Benedetto Marinangeli. Si sono conclusi al centro bianco-azzurro di San Benedetto del Tronto i laboratori a tema sul cibo del progetto Alimentazione e Salute voluto dall'amministrazione comunale per i centri diurni della città e condotti dalla referente locale di Slow Food. L'obiettivo è stato quello di aumentare la conoscenza e la consapevolezza di una sana alimentazione rispettosa dell'ambiente. L'amministrazione ha voluto questo progetto di sensibilizzazione sulla buona alimentazione sana e rispettosa dell'ambiente sia con il centro bianco-azzurro che con il CE di San Arcobaleno e ha coinvolto genitori e figli in questo progetto che ha riguardato diversi laboratori, non da ultimo quello del pane e oggi siamo arrivati all'ultimo appuntamento, io ringrazio Slow Food la sezione locale di Slow Food, una persona di Alessia Consorti e questo progetto pensiamo di riproporlo perché ha un obiettivo importante ha l'obiettivo quello di migliorare anche l'alimentazione dei nostri ragazzi con fragilità e di riproporlo anche al centro primavera con i nostri ospiti più anziani, i nostri nonni. Oggi è la conclusione, è un anno, a fare educazione alimentare dare delle indicazioni sul corretto consumo abbiamo anche instaurato un rapporto di amicizia, di confronto i ragazzi veramente sono stati straordinari e devo dire che è stata per me un'esperienza oltre le aspettative. Importante è stato anche l'apporto dato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto Questo è un progetto che non aspettavo fosse così bello è un progetto dove gli studenti entrano in contatto con delle persone che hanno bisogno di essere consolate farle rivivere un pochettino la loro vita e così via Questa è una classe quarta di pasticceria dove appunto si lavora anche la parte dell'arte bianca quindi farse lievitate e oggi in particolare abbiamo preparato un impasto con farina di grano tenero e farina di cicerchia un impasto sempre con farina di grano tenero e farina di fava rossa Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva parleremo di calcio ma non solo la sigla Tra circa un'ora ovvero alle 20 a Senigallia fischio d'inizio della finale di Coppa Italia d'eccellenza tra Osimana e Maceratese chi vince accede alla fase nazionale i giallorossi arrivano al match con l'intera rosa a disposizione mentre la rata sarà priva di Tortelli, Luciani e Ruani Ricordiamo che la sfida verrà trasmessa in diretta streaming su tvrs.it a partire dalle 20 Dopo il bel pieno contro il Catanzaro Lascoli è pronto per la trasferta di sabato a Pisa Sentiamo le parole di mister Fabrizio Castori E' un scopro di retto in questo momento Pisa c'è davanti di due punti quindi dobbiamo tornare a casa con l'esercito positivo La squadra ha sicuramente beneficiato di questa vittoria ha ottenuto un grande merito con la consapevolezza che possiamo affrontare chiunque avversario con la giusta fiducia e quindi siamo carichi al punto giusto pronti ad affrontare questo nuovo impegno La squadra sta crescendo sotto l'aspetto della mentalità del modo di giocare poi chiaramente il mio modo di giocare è un modo molto dispendioso quindi richiede un'interpretazione a livello fisico importante però la squadra sta riuscendo ad alzare i volumi, i ritmi di gioco quindi poi è chiaro che una partita riusciamo a farla meglio insomma ecco questo è un indire massimo per il modo di giocare nostro è fondamentale che ci sia una condizione fisica adeguata e la squadra ha saputo dare risposte giuste per quello che doveva fare in campo questo mi rende sereno noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita dare il massimo di noi stessi e adegitare bene lo spartito che abbiamo che stiamo cominciando ad imparare il Pisa è un aspetto, una squadra oggettivamente molto forte a livello tecnico, in qualitativa un giocatore di grandi esperienze e di qualità e comunque dobbiamo asservare noi a mettere in condizione di non essere pericolosi Pausa natalizia con le antenne dritte sul mercato giorni attivi in casa Montegiorgio che ha bisogno di rinforzi per poter competere per la salvezza alla corte di Mister Bagnoni potrebbero giungere molto presto due nuovi calciatori vicini sia l'attaccante classe 2000 Leonardo Zira dell'atletico Azzurracolli sia il centrocampista 2001 Davide Mazzieri del Tolentino i rosso-blu riattaccheranno la spina nel 2024 con la trasferta sul campo della Iesina la Samba esce sconfitta nel derby del Riviera delle Palme contro la Vigor Senigallia andiamo a vedere il servizio sul match non sarà un buon Natale per la San Benettese che viene sconfitta per la prima volta in stagione a Riviera delle Palme cedendo il passo ad una Vigor Senigallia cinica nello sfruttare le occasioni i rosso-blu possono recriminare contro la sfortuna visti i legni colpiti e le occasioni mancate la partenza per gli uomini di laurea è subito forte perché già il primo Martinello ci prova ma Roberto para a terra al quarto la gara si sblocca crossa dalla destra di Battista Cardoni di testa al centro area lasciato solo Roberti respinge come può ma il numero 77 è lesso e porta in vantaggi i suoi meritatissimi primo gol per Cardoni in campionato aveva segnato solo alle soldi in Coppa Italia 1-0 e gara che si sblocca la Samba è padrone del campo all'ottavo c'è provato Massini su punizione ma la traiettoria sfiora il palo al tredicesimo si vede scimia ma non è fortunato calciando fuori un minuto dopo l'incredibile pari ospite triangolazione al limite dell'aria Gambini serve Baldini che è tutto solo sulla sinistra tira a incrociare che supera Coco e che probabilmente finirebbe sul fondo ma intercetta un piede di Siri e la palla finisce in rete 1-1 è tutto da rifare si arriva al 26esimo quando la Samba è l'occasione per passare di nuovo avanti cross di Battista da dentro l'aria Tomassini sul secondo pallo arriva a un mero dalla linea della porta Roberto salva miracolosamente ma il numero 9 reclama il gol per l'albero però si può proseguire al 35esimo Tegola per la Samba Cardoni alza la bandiera bianca e fa il suo esordio Touré che si sistema in mezzo al campo trascorrono tre giri di lancette e si consuma l'ennesimo episodio dubbio dell'ultima settimana Tomassini cade a terra in aria ma per il signor terribile è tutto regolare prima dell'intervallo l'occasionissima c'era proprio Touré di testa ma Roberto è ancora bravissimo a dire no la ripresa si apre con un tiro di Cariota che non inquadra la porta 120 secondi dopo si vede Battista il quale serve Pagliari cross teso Roberto ne spinge di pugno palla Zoboletti che tira dai 20 metri ma la conclusione è centrale l'aulo si gioca la carta Alessandro al posto di Martinello ma è troppo incisivo e due minuti dopo Scimia raccoglie palla da posizione angolata e calcia colpendo in pieno la traversa la giornata sfortunata viene certificata al 22esimo quando Sirri calcia una punizione ma colpisce anche lui la trasversale con la palla che rimbalza in campo il tifo a Riviera è sempre più incessante ma nel momento di maggiore repressione la Vigor colpisce corre il 38esimo quando Baldini serve Cariota in aria Coco incerto nell'uscita e va a terra senza riuscire a fare su alla sfera che Broso tutto solo riesce a spedire il rete 1-2 e Riviera gelato entrano Nalardo e Pietroparo per gli stanchissimi Pagliari e Scimia ma al 43esimo la Vigor la chiude Mancini avvia un filminio contro piede dopo una chiara trattenuta su Battista non ravveduta dal direttore di gara e serve Scheffer che tutto solo entra in aria e trafigge Coco in uscita bassa 1-3 e addio sogni di aggancio al campo basso in testa della classifica al fischio finale scatta la festa per gli uomini di Clementi mentre i rosso-blu di casa vengono chiamati al rapporto alla curva nord che fa sentire la propria voce con la prima contestazione della stagione ora ci saranno due settimane di stop per ordinare le idee e recuperare le forze in vista del restart fissato il 7 gennaio contro il Sora Porto Santelpidio perde il suo portiere per quattro giornate e squalifica esemplare per il numero 1 Alessandro Finori estremo difensore classe 2002 spulso nel corso dell'ultima partita giocata al cospetto del Corridonia e persa per 2-0 stangata severa per le seguenti motivazioni come si è letto dal comunicato del giudice sportivo per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro il calciatore si è avvicinato allo stesso afferrandolo per la maglia e pestandogli un piede senza causare ulteriori conseguenze chiudiamo con il volley appuntamento con la Champions per la Lube che stasera alle 20.30 l'Eurosuole Forum affronterà i ciechi del VH Praga piegati con il massimo scarto all'andata i marchigiani guidano saldamente il girone con tre vittorie 9 punti 0-7 subiti mentre gli ospiti sono secondi con un successo e 4 punti per noi era questa l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione vi lascio la nostra prima serata poi vi ricordo l'appuntamento in streaming per la diretta di calcio Simeana Maceratese e vi auguro appunto una buona serata vi lascio alla sigla le previsioni del tempo per domani All News torna come consueto con la sua prima edizione domani delle 12.50 ben trovati ben trovati da Nico Schiodetto previsioni per la giornata di venerdì quando le perturbazioni continueranno a interessare tutta l'Europa centro orientale ad ovest invece campo di alta pressione su Portogallo e Spagna. Andiamo a vedere gli effetti sull'Italia, con una perturbazione che si addosserà all'arco alpino, nevicate sulle Alpi settentrionali, qualche locale piovasco anche sul basso Tirreno, altrove bel tempo. Osservate però le isobare strette, indice di una giornata ventosa sulla nostra penisola. E difatti possiamo notare una giornata abbastanza bella, a parte le nuvole, le precipitazioni sulle Alpi settentrionali e qualche piovasco anche tra Calabria, Sicilia, Tirrenica, altrove più sole con clima però ventoso e venti anche forti tra Savenia e Sicilia con mari agitati. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trabi Meteo.